Salve mister, tanto complimenti per la crescita della squadra, del lavoro che sta facendo. Soltanto una curiosità, come mai sui calci d'angolo, nonostante abbiamo almeno tre giocatori oltre il metro e il novanta, come mai sui calci d'angolo e sul calcio da tre quarti ad esempio non riusciamo mai ad essere pericolosi? Come se non trovassimo uno schema che attraverso dei blocchi consenta a qualcuno di andare più facilmente in rete. Soltanto una curiosità, per il resto solo complimenti. Grazie. I blocchi non si possono fare. Si fa fallo, a fare blocco si fa fallo. Poi è vero che dobbiamo fare di più. È un numero che ne abbiamo già parlato, abbiamo parlato anche con i calciatori dentro. Però intanto stasera abbiamo fatto un tentativo diverso, abbiamo andato un giocatore forte di testa come De Rossi a batterli perché è a piede per farli cascare bene dentro. Se non li battiamo bene puoi fare gli schemi che ti fare. Se si va a saltare sul primo palo e la palla finisce sul secondo palo, se si va a saltare sul secondo palo e la palla la piglia è primo uomo a zona. Daniele qualcuno l'ha battuto bene stasera e stasera qualche volta abbiamo creato delle mischie lì che potevano un centimetro più, un centimetro meno, portare a casa anche qualcosa. Però è vero, questo è un numero che dobbiamo assolutamente migliorare per la forza fisica e per la qualità dei colpi di testa che abbiamo. Poi? Che c'era? Era questo e basta. Buonasera, mister. Il primo tempo dove la palla non è girata al meglio, c'è stata molta difficoltà da parte della Roma in questa serata. Poi nel secondo tempo appena si è partiti la Roma è sembrata cambiata. Oltre al fatto tattico che aveva cambiato nel primo tempo con Rudiger sulla fascia, forse si può dire che anche all'erro psicologico la stanchezza, all'erro psicologico la partita pensava la Roma fosse più facile o il Cagliari invece alla fine sembrava una squadra estremamente più difficile? No, nel primo tempo abbiamo fatto girare lentamente la palla. La portavamo troppo, poi qualche volta siamo rimasti troppo aperti, troppo larghi con questi cambi di gioco, mentre loro poi avevano questa densità dentro il campo e quando si perdeva palla non si riusciva a sartargli addosso e a fare pochi metri per cui perdi palla sei costretto poi a rifare 100 metri con tutta la squadra perché devi tornare al limite dell'area. È vero, non ci siamo riusciti, io ci ho messo qualche cosa del mio nel falli peggiorare perché poi quando mi ha portato Rudiger a destra a fare il quarto mandando su Perez lui aveva metà fascia libera e spingeva e costringeva poi Perez era costretto a entrare dentro il campo per lasciargli la corsia vuota però Perez poi quando entra dentro il campo non è il padrone dei suoi comportamenti e dei suoi movimenti come in fascia per cui mi trovavo questi due giocatori alti a destra quegli altri due giocatori larghi a sinistra Raja spesso sulla linea dei difensori mentre nel secondo tempo si è rimesso a posto queste vie di mezzo dei due esterni che secondo me hanno fatto molto bene come tre centrali anche stasera. Poi Raja è venuto più basso 10 metri a livello di Strottmann a palleggiare a toccare più palla e a entrare più nel vivo del gioco. Diego faceva seconda punta centrale, aperto a sinistra sceglieva un po' questa doppia situazione però eravamo molto più corti, molto più densi i due si chiamano così a volte in gergo calcistico i due braccetti della linea difensiva che in questo caso erano Rudiger e Manolas entravano fino dentro a tre quarti avversari a chiamare fuori uno dei centrocampisti degli altri che gli si ponesse davanti allora ci restava sempre la possibilità di palleggio e secondo me nel secondo tempo abbiamo fatto bene quello che era pericoloso e poi l'ha visto il Milan due domeniche fa l'ha visto il Genoa domenica contro i loro perché loro vengono hanno fatto un periodo dove non hanno fatto il risultato ma ora il mister è stato bravo la stella è stato bravo a trovare la soluzione ha rimesso a posto la squadra e si sono trovati in un momento dove avevano entusiasmo avevano certezza per cui Cagliari ha fatto una buona partita tutti molto corti squadra in salute da un punto di vista fisico noi in qualche elemento lo stress della partita di giovedì perché sono partite, sono due giorni non fa in tempo neanche a recuperare per cui qualcosa si è cambiato ma qualcuno ha dovuto fare il doppio turno per cui tutto sommato io la prendo come una partita molto positiva questa qui anche perché non abbiamo perso la testa quando lo stadio non riusciva a trovare poi l'incastro o il momento per partecipare al gioco di squadra e qui siamo abituati che che se il pubblico rumoreggia lo subiamo un pochettino o perlomeno se non c'è un po' di partecipazione ecco anche se non sono un numero eccezionale però quando sentiamo che stanno con noi per noi è una tranquillità una sicurezza Buonasera è d'accordo che questa è stata una giornata di campionato importante perché si è creato un piccolo solco tra le prime tre che anche l'anno scorso erano le squadre più forti e il resto del campionato cioè comincia a restabilirsi un po' una gerarchia nel campionato e se a questo punto vista la ripresa meravigliosa del Napoli se il reale sarebbe disposto in questo momento a firmare per il secondo posto No cioè non si fa così nel senso che si gioca e ci si vuole confrontare con tutti anche se gli altri sono più bravi si vuole andare a vedere poi in pratica quello che ci manca e quello che possiamo migliorare per essere a livello degli altri ci sono ancora molte partite secondo me il Mina ha fatto vedere anche pure scendo sconfitto da questa partita che è una squadra di livelli è una squadra di rango la Lazio non è una partita che poi ti dice che non sei adatto a perché ha fatto vedere che può stare nel gruppo dell'alta classifica l'Inter l'Inter può fare un filotto l'Inter è una grande squadra perché non riusciva a trovare poi il bandolo della matassa non si riusciva a fargli sentire poi una squadra forte a fargli mettere in pratica le soluzioni che hanno ma l'Inter è una grande squadra sta venendo al galoppo al pari di quelle che sono davanti per cui le partite sono tante come si diceva prima c'è da fare un passo alla volta da sapere che ci sta ancora di tutto e soprattutto da portare a casa le partite risultati come stasera come abbiamo fatto ecco magari anche soffrendo un po' però poi soffrendo essendo un po' al di sotto di quello che possiamo fare soffrendo poco perché poi gli altri stasera non hanno mai tirato un porta se no si fa lunga per delle ore ci si può trovare per forza qualche cosa che non va bene io sono d'accordo però qualche volta cerchiamo di essere pratici e realisti la Roma ha giocato un primo tempo al di sotto del suo livello ma ha vinto meditatamente non ha concesso niente e ha passato poi un un turno un turno dove ci potevano essere delle insidie punto grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi